Paolo Manuel Carvaglio de Sousa, nato a Viseu il 30 agosto 70, compie oggi gli anni. Per lui sono 53 candeline sulla torta, 54 invece per il team manager a Vallone, nato sempre il 30 agosto. Paolo Sousa, vestito da calciatore e maglie di club prestigiosi, laureandosi anche campione del mondo under 20 con l'anzione portoghese che vinse il mondiale di categoria in Arabia Saudita nel 1989. Da febbraio scorso Sousa è sotto contratto con la saleritana con cui ha totalizzato 4 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte nello scorso campionato, portando agevolmente in salvo la squadra e contribuendo alla crescita di tanti calciatori. In questa stagione, dopo la vittoria in Coppa Italia con la Ternana, Sousa ha centrato due pareggi in campionato, confermandosi imbattuto all'Olimpico contro la Roma di Murigno e pareggiando anche l'esordio interno con l'Udinese. Due punti che, anche se non sono valsi a guarire la squadra alla pareggite, tirate in ballo dal presidente Rivolino, hanno permesso alla saleritana di riscrivere la storia, ma infatti la squadra granata era riuscita nelle precedenti 4 partecipazioni a restare imbattuta nelle prime due giornate del massimo campionato. Al quinto tentativo, con Sousa in panca, la missione è stata centrata. Fossero arrivate due vittorie, certamente il primo ad esserne contento sarebbe stato il tecnico portoghese, ma non si può avere tutto e subito, e se la squadra è stata integrata dai nuovi acquisti solo a Ferragosto va da sé che ci voglia un po' di tempo e che anche le prime gare ufficiali stagionali servano da rodaggio, sebbene con tanto di punti in palio. La saleritana di Sousa ha segnato 26 gol in campionato contro i 23 subiti e viaggia alla media di 1,28 punti a gara, una media che, se confermata, garantirebbe anche in questa stagione la salvezza. Dal mercato in arrivo un regalo per Sousa, il DS De Santis, ha chiuso l'accordo con Ren per l'Hum Chouna, esterno d'attacco del Chad, ma con passaporto francese, nato nel 2003. Dopo una stagione in prestito al Dijon, ora per lui c'è la possibilità di affermarsi in Italia. Potrebbe essere l'ultimo innesso estivo del mercato Granata, a meno che non si sblocchino altre cessioni dopo quelle di Orlando e Christoffersen.